Don't kiss me darling, I want you to hear the things I say Splendida come un fiore, accattivante come una rosa, candida come una sposa Le griff, i modelli, l'esclusività, la tendenza, Orchidea abiti sposo e sposo L'eleganza di un giorno indimenticabile per fare grande una cerimonia di grande attesa Orchidea ti propone qualità, grande disponibilità e scelte di successo ad un prezzo molto esclusivo Orchidea ti aspetta per visitare le nuove collezioni che vestono gli sposi del momento Orchidea ti propone inoltre i tendaggi di facile scelta per rendere bellissima la tua casa Orchidea sposa la trovi in Via Canarette a Petiglia Policastro Info al 338-632-8278 e 320-6067-095 Orchidea Orchidea Sposi per tutta la vita Orchidea 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 Orchidea